oh ma salve buongiorno a tutti mi stavate aspettando si scusate per questa ennesima lunga assenza ma ho delle novità delle novità belle serie e cose interessanti mi sono trasferito a viareggio per cominciare miei studio all'università dove studio economia qualche giorno fa si è svolta la fiera lucca comics and games alla quale sono stato invitato e ho deciso di mostrarvi qualcosa di questa fiera questo lucca comics and games è stato organizzato bene sono rimasto soddisfatto dell'organizzazione che c'era questo lucca comics and games il mio lucca comics and games si è svolto solamente da un lato cioè il pala youtuber dove ho incontrato alcuni di voi dove ho fatto un sacco di riprese bellissime e ho conosciuto altri youtuber è stata la mia prima esperienza dietro un backstage è stata la mia prima esperienza diciamo da youtuber salire su un palco parlare con un microfono far qualcosa che possa intrattenere il pubblico e mi sono sentito davvero emozionato e ero contento era davvero bello tralasciando tutto questo discorso vi lascio il video che secondo me sarà molto più interessante di me che parlo scusami ah ok ciao si ma dobbiamo andare a luca oggi andremo a luca dopo un sabato sera abbastanza distruttivo e nulla ci incontreremo lì e adesso vi lascio 5 secondi per ammirare e adesso vi lascio 5 secondi per ammettiamo l'intensità del pastiglio prima di andare a luca facciamo il rifornimento allora abbiamo del pollo del riso della maionese è una ananas non è una ananas noi stiamo andando al paladitube da piedi cioè stiamo in mezzo all'autostrada ma che bordi e e e e e e e e e andiamo a farlo le fai una bene grazie e nulla ragazzuori adesso abbiamo fatto un giro di tutto a lucca possiamo confermare che la giornata numero uno anche se non è popolano finisce qua quindi a domani di qualcosa di stupido palpaccia mal di pancia e questa sarà la nostra ultima giornata del luca comics adesso farò un giro per i backstage che farò vedere un po' come e tutto il mondo da quest'altro lato cioè il pala youtuber qui possiamo vedere proprio tutto il pubblico tutto il pubblico che c'è e che ci acclama guardate quanta gente ecco sono poco d'antale io sono io e lei è Giulia ok lei è Ginevra Ginevra Iorio e sto procedendo questo giorno un po' che merda no no c'è un po' che gente tra un po' credo che andremo a lanciare perché siamo e io posso fare adesso ci facciamo un giro per la città vediamo un po' gli stand della città c'è qualcosa di figo tipo è un panda ok ragazzi il luca è finito molto bello davvero molto bello perché è stata anche la mia prima volta diciamo che sono salito ufficialmente su un palco ho parlato con un sacco di voi quindi ci vedremo prossimamente ciao Siete venuti tantissimi oggi troppo cioè non riusciamo neanche a salutarvi tutti vi dico solo un grazie grazie